Partirà lunedì da Celano il ritiro per campionato del Teramo inserito nel girone C di Lega Pro. Il comune della Marsica lega il suo nome al primo anno di dirigenza, di presidenza di Franco Iachini. Presente oggi proprio qui in municipio a Celano insieme al sindaco Santilli, all'assessore allo sport Marianetti per presentare questa estate bianco-rossa. Noi siamo veramente soddisfatti e accogliamo con gioia il Teramo Calcio perché per noi è sicuramente un valore aggiunto. In città ci siamo sempre spesi sia sulla parte sportiva collegata al turismo, quindi abbiamo fatto tanti sforzi perché questo diventasse un valore aggiunto. Speriamo che questo primo ritiro sia prodomo ad un successo. Vedo l'entusiasmo nei calciatori, nei dirigenti, negli allenatori. Proprio ieri sera siamo stati in ufficio da me fino alle 20, 20 e 30 con uno staff nutrito di dirigenti e si respirava un'aria molto serena e molto attiva. Gli allenamenti partiranno lunedì dunque ma per le amichevoli i tifosi bianco-rossi dovranno spostarsi perché non c'è l'agibilità per le gare precampionato del piccone a causa del maltempo che ha reso inagibile la tribuna e allora è probabile lo spostamento al Barbati di Pescina per i primi impegni per vedere in campo i nuovi del Teramo che nel frattempo continua anche nella ricerca di alcuni elementi per completare la rosa. Noi abbiamo la tribuna centrale inagibile per via di un bruttissimo tempo che c'è stato e che ha in qualche modo creato dei problemi sulla copertura quindi per ragioni di sicurezza noi abbiamo ritenuto opportuno chiudere la tribuna. C'è da parte nostra tutta la collaborazione e la voglia perché rimangono nella Marsica e quindi ci stiamo adoperando per dare una mano al team manager del Teramo che io veramente ringrazio pubblicamente che è Fabio Gatta che ha fatto un lavoro eccezionale per preparare questa attività alla squadra. E quindi da parte nostra ci sono aperte già delle conversazioni con i comuni limitrofi che hanno la possibilità invece di accogliere queste amichevoli e quindi ci sarà sicuramente la possibilità di spostarsi noi in questi stadi che non saranno quello di Celano per l'amichevole. Al massimo si giocherà in qualche chilometro di distanza sicuramente ci sarà dato spazio ai tifosi per vedere gli allenamenti credo sugli spalti dei distinti e non della tribuna però insomma io credo che i tifosi terramani che so essere numerosi quelli che parteciperanno al ritiro potranno vedere i propri giocatori e conoscerli perché tanti sono nuovi quindi dovranno venirli a conoscere qui perché domenica si raduno ma insomma si potranno vedere in borghese e non con la divisa addosso.